ora non pensate male perché ora vi faccio vedere c'è ancora il sole però ho messo vedere che è ancora chiaro qui sotto siccome sono le 8 e mezza si vede poco ho fatto una scappata qua nei miei posti ragazzi ho girato per un'oretta non ho trovato niente poi qui nei roveri mamma mia ragazzi mamma mia che funghi che funghi ragazzi guardate un po che roba uno spettacolo domani sarà credo battaglia poi ci diamo un'occhiata dai mix invece facci vedere tu saranno di roverella estivi fantastici sani bravo direi che va bene allora oggi penso sarà giornata di neri perché ieri erano neri e oggi sono di nuovo neri neri guardate che spettacoli guardate che spettacoli ecco la Lian che colpisce ancora ve lo faccio vedere meglio eccolo lì siamo su questo costino che ci sta regalando qualche fusi dai ne vedo uno qua poi guardate qui che spettacolo poi ce n'era uno là e l'ho visto perché è mangiato che se non era mangiato questo guardate che spettacolo ah ma che funghi ragazzi guardate che bello che spettacolo uno qui un altro ragazzi qui è pieno c'è pieno guardate che cose guardate che copredate che spettacolo guardate che spettacolo sempre lui a discutere sulle tracce da fare siamo accorti e sempre sempre neri ma nerissimi ragazzi va bene dai ragazzi i funghi ci sono guardate che spettacolo i funghi ci sono bisogna solo cercare di trovare guardate qua strano un giro di pini però ci sono i rover intorno ci sono i rover ritorno guardate questo che bello che meraviglia da un altro ragazzi di erba massicci mamma mia aspettate che temposo la rettina guardate questo guardate questo guardate questo è qui l'erba due tre quattro quanti ce l'è che spettacolo che spettacolo dai 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 ora tocca al mio amico farmi un po da camera così ripago il debito quindi siamo qua dimenticato no no estivi stivi petrante che posa la cesta e se no qua ok vai allora li mettiamo qua e gli estivi sono un po più passati mentre invece gli erus sono solitamente ma che belli quelli e poi l'altro qua allora andiamoli a posare ce ne sono altri è una bella strisetta e allora sono passato da qui diretto questi non li ho visti guardate questi non li ho visti ho visto subito questi qua perché ho detto vado qui dove c'è la discesa delle acque guardate l'acqua come ha scavato fino alla terra ha tolto tutte le foglie io ho visto questi qua guardate che spettacolo però ragazzi c'è uno qua uno qui dai li prendiamo andiamo vicino agli altri che belli ma che funghi vai e questi qua sono un po più grandi ma li prenderemo lo stesso dai allora uno due tre poi c'è questo e qui devo dire tutti estivi sponda sud tutti estivi belli però dai un altro qua mangiato va bene dai appena più sopra ma proprio 3 4 metri ho guardato sono invisibilissimi questi aereo ci hanno un colore sfumato che guardate che spettacolo che funghi qualche fungo prima avevo detto che oggi rana era da neri perché qui è zona da neri poi qua ovviamente nascono anche gli estivi guardate questi guardate questi guardate che cose guardate la questa è uno la ora vediamo dai li raccogliamo ah ma questo che bello che spettacolo guardate Mamma Cosa dici? Sono io che ti porto fortuna o sei te che porti fortuna a me? Io direi che questa coppia può essere una coppia che scoppia. Va bene guarda lui ne ha visto uno lì però poi io gli sono venuto incontro e gli prendono gli altri perché è ovvio l'ho portato nei miei posti ma ragazzi guardate che aereus ma che aereus guardate un po qua qui 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 coppiette c'è di tutto guardate qua guarda 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 non finiscono più mamma mia ragazzi che spettacolo porca miseria noi ce ne siamo andati via da questa zona e loro sono qui che aspettano